E' bello. Già. Poi c'è la scuola di pensiero che dice che la famiglia in cui si nasce è semplicemente un punto di partenza. Cosa stiamo facendo? Le luci. La famiglia ti nutre, ti veste, si prende cura di te. Finché non sei pronto ad andare in giro per il mondo, a cercare qualcosa di tuo.